Con la recente espansione della linea Casio Privia PX, improvvisamente siamo passati da 2 a 5 modelli portatili con i nuovi pianoforti digitali Privia PXS5000, S6000 e S7000. Il PXS5000 funge da passaggio diretto dal popolarissimo PXS1100 e con un prezzo non eccessivamente proibitivo, per molte persone passare all'S5000 avrà davvero senso. Se siamo tra quelli che sono alla ricerca di un pianoforte digitale incentrato sulla parte pianoforte e che sia molto portatile, che offre anche un cabinet estremamente sottile ed elegante, uno strumento complessivamente leggero però con tasti pesati e funzionamento anche a batteria, PXS5000 sarà una scelta da prendere sicuramente in considerazione. Con una raccolta curata di 23 suoni di alta qualità da esplorare, il Casio Privia PXS5000 presentato da Ceccherini in questa recensione, stimolerà sicuramente la nostra creatività musicale. È dotato internamente di tre pianoforte a coda di classe mondiale, completi di un simulatore acustico all'avanguardia per una risonanza realistica delle corde e degli smorzatori. Il tocco finale al nostro capolavoro lo danno gli effetti da studio che includono riverbero e simulazioni di sale e altri effetti ancora. Si possono usare i registratori audio e midi per catturare le proprie idee e salvarle su una chiavetta USB. Con una polifonica da 192 note, il PXS5000 riproduce fedelmente le complessità di tutte le creazioni musicali. Il Privia PXS5000 è dotato della tastiera Smart Hybrid Hammer Action a 88 note di Casio che, attraverso la meticolosa ingegneria di questa casa musicale, la tastiera presenta una autentica sensazione di pianoforte e una risposta che trasmette ogni sfumatura alle proprie esibizioni. Il Casio Privia PXS5000 aggiunge un tocco sofisticato a qualsiasi stanza della propria casa data alla sua eleganza, mentre il suo telaio compatto e leggero lo rende facile da essere trasportato per concerti dal vivo, prove o sessioni di registrazione in studio. Ma, a differenza della maggior parte dei pianoforti da palco, ha anche un sistema audio integrato a due canali e due altoparlanti che riempiono la stanza con interpretazioni super realistiche di tutta la strumentazione a bordo. Naturalmente ci sono due jack per le cuffie, per le esercitazioni silenziose e per le sessioni di insegnamento. La porta USB del PXS5000 si collegherà a qualsiasi Mac o PC senza bisogno di scaricare nessun driver. E' inoltre dotato di Bluetooth per la connettività audio e MIDI wireless con le proprie app musicali preferite che siano presenti sul nostro smartphone o tablet. In conclusione, possiamo aggiungere che il PXS5000, presentato da Ceccherini Music in questa recensione, funziona anche a batteria con 8 batterie a AA. Vi aspettiamo in negozio in via dei Ginori 31 Rosso a Firenze per conoscere e provare questo articolo, questo strumento, con l'aiuto del nostro staff sempre a vostra disposizione. Non mi resta che ringraziarvi, salutarvi ed invitarvi a cliccare mi piace su questo video, iscrivervi al canale YouTube di Ceccherini Music, attivare le notifiche per non perdere nessun aggiornamento e commentare o fare qualche domanda che riguardi i prodotti presenti in negozio o sul sito cecherinimusic.com. Un saluto a tutti da Cesar Martignon.